Continuano gli attivisti green a commettere atti per attirare l'attenzione. Ma la sensazione, come dice Senaldi, è che a questi non starebbe mai bene niente. Ci vorrebbero portare tutti all'età della pietra. A mio avviso la soluzione è semplice. Bene andate su un'isola deserta, vi mettete là, fate i figli dei fiori gli hippie e non rompete le palle a chi vuole il progresso. La sensazione che trasmettono questi attivisti ultraambientalisti è che non gli basta mai. Quindi loro, l'Europa si fa quel che può anche troppo secondo me e si assume dei rischi per la sua tenuta economica e sociale per attivare delle politiche green. Però a questi non gli va bene. Ma io credo che anche se tornassimo al calesse e al caminetto sotto casa loro non gli andrebbe bene. Questa è la sensazione che trasmettono, penso non solo a me, ma anche alla maggioranza dei cittadini europei. De Carlo ha ragione Senaldi? Ha ragione Senaldi, vogliono tornare. Ragazzi, vi è piaciuto il video? Beh, cosa aspettate? Iscrivetevi al canale! Grazie! Grazie!